La prossima scivolata che fa, la prossima idiozia che racconta, andiamo direttamente alla Procura della Repubblica a querelare per diffamazione, procurato allarme, abuso d'ufficio ed anche concussione. Non ha usato mezzi termini in pieno stile il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando del Ministro della Salute Giulia Grillo. Lo ha ribadito a Salerno Zamani, parlando del Ministro della Salute e del caso legato al commissariamento della Sanità in Campania, alla nomina annunciata che dovrebbe sostituire proprio il Presidente della Regione. Parole dure quelle di De Luca stamani durante la presentazione dello spazio lavoro presso la Camera di Commercio di Salerno all'indirizzo del Ministro. Faccio fatica a pensare alla signora Grillo come Ministro di un governo serio, ha detto questo è un circo equestre, non un governo. La sedicente Ministra Grillo è via di mezzo tra assoluta ignoranza delle cose di cui parla e la provocazione politica. Non ha capito che il problema della Campania non è sostituire il commissario con un altro, magari un cliente di 5 stelle, perché il commissariamento va eliminato in una regione che si presenta da sei anni con un bilancio della sanità inattivo e nel 2018 con il raggiungimento pieno degli obiettivi dei livelli essenziali di assistenza. Faccio fatica a pensare alla signora Grillo come a un Ministro di un governo serio, questo è un circo equestre, non è un governo. La Ministra Grillo è una via di mezzo tra l'assoluta ignoranza delle cose su cui parla e la provocazione politica. Sono mesi che ancora non ha capito qual è il problema della Campania. Il problema della Campania non è sostituire un commissario con un altro, magari un cliente dei 5 stelle. Il problema della Campania è che non ci sono più i motivi per tenere in piedi il commissariamento, perché la Campania si presenta con sei anni di bilancio sanitario inattivo e nel 2018 con il raggiungimento pieno degli obiettivi dei livelli essenziali di assistenza. Quando parla la Grillo io non so di che cosa parla, se ha elementi di merito da comunicare, lo dica. Quando parla dei Lea a che cosa si riferisce, a quali prestazioni. Quando dice che la struttura tecnica del Ministero ha rilevato che sta mentendo, come ha mentito quando parlava dell'ospedale di Santa Cata di Codi, attribuendo alla Regione l'intenzione di chiuderlo, come ha mentito per Sapri, per Polla, per piedi Montematesi, ormai l'attività di questi signori è semplicemente mentire e fare da sponda alla demagogia che fanno nei territori gli esponenti delle 5 stelle. Comunque io sarei per non perdere più neanche un minuto di tempo. La prossima scivolata che fa, la prossima idiozia che racconta, andiamo direttamente dalla Procura della Repubblica a querelarla per diffamazione, per procurato allarme, per abuso d'ufficio e anche per concussione, perché ci siamo rotti le scatole e perché è intollerabile che un Ministro della Repubblica ogni 48 ore faccia dichiarazioni assolutamente scriteriate, arbitrarie e dannose per la campagna.